Tonnellate di rifiuti speciali sversati al ridosso del Bosco degli Astroni. 150 metri cubi di scarti abbandonati lungo la via Murate che sale da Agnano verso Pianura, una strada che solo poche settimane fa era stata completamente ripulita dai lavoratori di Asia. Secondo le indagini della Polizia Ambientale, i materiali proverrebbero da un cantiere edile del Vomero. Pannelli, guaine, sanitari, materie plastiche e altri rifiuti inquinanti abbandonati a cielo aperto in violazione delle norme a tutela dell'ambiente. Scoperto l'abuso, gli agenti hanno sequestrato il cantiere e sportò denuncia all'autorità giudiziaria. Ai responsabili della ditta, che hanno respinto gli addebiti, è stato intimato di rimuovere immediatamente i rifiuti. Nei prossimi giorni una squadra di Asia completerà la bonifica. Abbiamo monitorato la zona in diversi periodi della giornata e nel tempo, raccogliendo gli elementi dall'interno dei rifiuti, siamo arrivati a ieri con elementi utili per individuare il soggetto che ha realizzato questo ennesimo abbandono di rifiuti sulla pubblica via. Qui vediamo una parte, alle spalle prosegue la strada. Sono in totale una cinquantina di metri di materiale, quindi di macerie, di materiale isolante proveniente dai pannelli, dalle controsoffittature, rivestimenti e quant'altro presente in una struttura definita come abberghiera. Il tutto adesso, stamattina, viene prelevato con i mezzi a spese dei responsabili di questa attività e verrà custodito e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Negli ultimi mesi una decina di aziende che avevano sversato i propri rifiuti in quell'area sono state scoperte e denunciate dal nucleo di polizia ambientale grazie alle attività di controllo del territorio. I cittadini possono denunciare abusi e illeciti ambientali telefonando al numero 081-795-8984 oppure direttamente sulla pagina Facebook della Polizia Ambientale. L'indirizzo di posta elettronica per le segnalazioni alle quali rispondiamo allo stesso mezzo è polizialocale.tutelambientale.chiocciolacomune.napoli.it o alle utenze telefoniche del comando della Polizia Municipale di Napoli.